Siamo in compagnia del capitano Francesco Ladardi. Francesco, oggi il Ficarazzi ha dato prova di grinta e di cuore. Avete subito la rimonta avversaria nel primo tempo, poi siete passati voi in vantaggio e avete chiuso alla grande. Un commento a caldo su questa partita? Diciamo che abbiamo regalato un tempo. Il primo tempo, come dici tu, abbiamo perso un po' la testa dopo il 2-1 e non riuscivamo più a girare palla, a girare questa palla e a entrare e fare i continui tagli per aprire la difesa ben organizzata, devo dire, del trabito. Nel secondo tempo siamo entrati più sistemati, più concentrati e soprattutto con la testa perché nel primo tempo non c'eravamo con la testa. Prossimo appuntamento in Resultana. Cosa ne pensi di questa squadra? La conosciamo bene, è una squadra attrezzata, tra l'altro l'abbiamo incontrato più volte anche nei vari tornei a stile e non li abbiamo ancora battuti. Quindi avversario ostico? Dico avversario ostico, quindi quello della prossima. Molto organizzati e preparati tatticamente. I due compagni di squadra? I compagni oggi, secondo me, l'emozione del palazzetto. Molti di loro non sono abituati a giocare in un palazzetto e quindi forse un po' la confusione, l'emozione le ha tradite. Quindi possiamo dire che il pubblico è stato l'uomo in più in campo? Sì, oggi sì, come ai vecchi tempi. Speriamo di rivederlo sempre quando giochiamo in casa. Appuntamento alla prossima, ti ringrazio e una buona serata. Ciao, ciao per me.